Il capogruppo del PD in Consiglio regionale si è soffermato sull'anno che è stato. È stato un anno difficile che è stato segnato dal Covid, quindi questa lotta a questo nemico invisibile che ha impegnato tutto il sistema sanitario regionale, che ha risposto bene. Gli abbiamo chiesto che cosa si aspetta dal 2021. L'aspetto di vedere partire i lavori per quanto riguarda il completamento della variante di Camucia, per quanto riguarda i lavori per quanto riguarda la variante di Subbiano Nord del Corzalone, della Pretella delle Coste in Val d'Arno, aspetto di vedere se non completata ma quasi completata la ciclovia dell'Arno oppure la ciclovia tiberina, quella che abbiamo finanziato tra Sansepolcro, Anghiari e Monterchi e che poi dovrà continuare riconnettendosi ad Arezzo magari con un futuro lotto. Crede in una campagna di vaccinazione veloce? Vincenzo Ceccarelli ci crede? Credo che il vaccino sia l'unica vera risposta che può essere risolutiva.